Nuova puntata di KnowHover, tutte le voci della formazione, il nostro format esclusivo in collaborazione con Rebis. Nuova puntata dedicata a un tema cruciale del momento e lo leggiamo insieme in sovrimpressione. In azienda come in campo vince il mindset agile oppure all'italiana agile. Poco cambia perché la premessa è questa. Complice la pandemia abbiamo tutti cominciato a utilizzare sempre più frequentemente termini come smart working, lavoro da casa, lavoro da remoto, appunto lavoro agile, però nella fretta di apprendere anche dei comportamenti ai quali non eravamo troppo abituati, abbiamo forse mischiato troppo le carte sul tavolo. Allora l'obiettivo di questa puntata è proprio andare a definire di cosa stiamo parlando, di cosa si tratta quando parliamo di lavoro agile. E allora io saluto subito per l'apertura Manuel Minati, eccolo qui, pronto in collegamento amministratore unico di Rebis. Manuel, bentrovato. Bentrovata a te Manuela. Insomma ho cercato di fare anche una partenza molto più agile del solito perché dobbiamo metterci nel mood, no? Insomma la pratica poi deve seguire subito la teoria come voi insegnate, dimmi se sbaglio. Ti chiedo subito perché la scelta di questo argomento? Ma in questo caso è un po' come in tutte le altre puntate. Noi partiamo da quella che è la nostra esperienza, cioè quello che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare con i nostri partner e le nostre aziende. Perché? Perché ci siamo accorti che sono un termometro estremamente efficace anche per definire quelle che possono essere dei nuovi scenari, oltre a evidentemente evidenziare quello che sta accadendo realmente nel mondo delle imprese da un punto di vista dello sviluppo delle competenze e dei processi di lavoro. Oltre a questo chiaramente noi traiamo spunto anche da quelli che sono in questo caso suggerimenti veri e propri che arrivano dai membri del gruppo Noabber che abbiamo sviluppato su LinkedIn e che è composto non solo da figure HR ma anche da manager di altre funzioni, da CEO, CFO, marketing e sales. Perché pensiamo che questa commissione, questa fusione sia un elemento vincente per cogliere ancora di più tutte quelle che sono le nuove esigenze che il mercato ci impone. Certo, quindi l'agilità come caratteristica fondamentale e soprattutto andremo a vedere tra pochissimo come gli ospiti di questa puntata appartengano ad ambiti diversi ma che insomma in qualche modo ci conducono allo stesso obiettivo, allo stesso percorso indipendentemente da quello che si fa nella vita. Allora ti chiedo subito Manuel, proprio rifacendomi al titolo di questa puntata dove compare la parola campo, possiamo cominciare a svelare chi sarà una delle ospiti d'eccezione di questa terza puntata di know-how perché poi da lì si chiariscono molte cose. No, con molto piacere anche perché quando ci è venuto in mente il tema del mindset agile o agile la prima persona che mi è venuta in mente è stata Maurizia Cacciatori che ho avuto la fortuna di conoscere in questo ultimo anno in modo più significativo e che rappresenta secondo me l'esempio perfetto di agilità prima sul campo come campionessa di volley e ora anche come speaker motivazionale per le aziende, oltre al fatto che ricopre anche il non semplice ruolo in questo periodo di mamma, di bambini che sono in dad come per molti di noi. Ottimo, e allora Maurizia Cacciatori appunto è l'ospite d'eccezione della puntata ma non sarà l'unica perché poi parleremo con altri interlocutori che ci porteranno le loro esperienze. Manuel naturalmente tu resta collegato, noi ci rivediamo per le conclusioni e adesso andiamo proprio a parlare con lei, con Maurizia Cacciatori e poi continuiamo con il dibattito. A dopo Manuel. Ascolto con interesse, a dopo. Ed eccoci dopo tutte le premesse fatte per introdurre questa puntata, non perdo altro tempo e saluto lei, Maurizia Cacciatori, eccola qui. Maurizia, grazie per essere collegata con noi. È un piacere enorme fare squadra con voi, quindi sono molto contenta. Fare squadra, guarda io vado subito al centro della questione, insomma più mindset è già il di te, sei una campionessa, voglio dire è inutile, non hai bisogno di presentazioni. Oggi fai la speaker motivazionale, ti sei veramente formata come donna a 360 gradi, sei pure mamma, insomma più agile, lo dico anche all'italiana, di così? No, sbaglio? No, dici benissimo. Io devo dire che devo ringraziare il mio mondo, il mio mondo sportivo perché credo di aver allenato questo mindset fin da ragazzina in maniera inconsapevole, perché essere agili significa avere una forte motivazione personale, avere la capacità di dare fiducia e essere allo stesso tempo un esempio e di trovare strategie in maniera rapida, senza tanti se e senza tanti ma. La pallavolo è un gioco di squadra dove il team è alla base di tutto, ma allo stesso tempo dove anche le soluzioni devono essere trovate in maniera molto rapida e anche in modo condiviso. Quindi credo che minimizzare anche la burocrazia, le tempissiche, avere questa mentalità è un plus. Vedo tante aziende che hanno già ben chiara questa mentalità e tante aziende che ancora sono troppo resilienti e io credo che sia davvero una chiave vincente per essere un passo avanti rispetto agli altri, soprattutto in questo momento particolare storico delle nostre vite, dei nostri team e delle nostre aziende. Beh, dove necessariamente la velocità conta ancora di più, ha sempre contato la velocità, no? Poi abbiamo non a caso riportato, seppur velocemente, il ricordo di te in campo, insomma la strategia c'è, però nello stesso tempo strategia va bene ma bisogna poi decidere cosa fare in tempo zero. Oggi anche il business, il lavoro funziona così, bisogna essere però molto formati, un po' come per gli allenamenti sportivi, per questo che continuo a fare questo parallelismo. Sì, e dici anche bene, perché ci vuole un'ottima organizzazione del team, no? Un'ottima preparazione. Io dico sì perché le coppe si vincono da lunedì mattina e si conquistano meritatamente la domenica, ma perché è questo il concetto, no? Alla base di tutto, se vuoi avere una mentalità così rapida, così fluida, così anche flessibile, devi avere comunque alla base una buona preparazione, perché noi per anni siamo state davvero delle grandi campionesse in ambito sportivo, abbiamo conquistato davvero titoli straordinari, ma l'abbiamo fatto con grande preparazione alla base e poi lavorando su di noi in funzione proprio del team. E tutto questo ci ha dato la possibilità di capire che la velocità, la rapidità, anche di sguardi, di cambio strategia nell'immediato, perché quando giochi contro un avversario nel volley, ve lo posso dire, prepari tutta una strategia, ma all'ultimo secondo la devi cambiare, quindi anche una predisposizione al cambiamento, no? E quindi senza fermarsi, senza stare ad attendere quello che è quello che farà l'avversario, ma pronti a ricostruire, a resettare in maniera rapida e veloce. Questo cosa implica? Una buona intesa del team, nel senso il team deve essere un team, non può essere un gruppo, ognuno che fa il suo percorsino, no, deve essere una squadra che ha l'obiettivo ben chiaro e ha allenato questa skill. Questo è un buon insegnamento, mi permetto di dire, che è bene sempre da tenere a mente, perché altrimenti si perde solo tempo a gestire, no? Le diversità all'interno del team, diversità in senso negativo, perché poi ci sono anche le diversità in senso positivo che portano ricchezza, e quindi sicuramente sì. E bisogna un po' associare tutte queste caratteristiche che tu ci hai detto, anche, l'ho citato prima, nel tuo ruolo di mamma. Qual è il più difficile? Ruolo di sportiva, ruolo di manager, diciamo così, motivazionale o ruolo di mamma, Maurizia, prima di salutarti? Ma, credo il ruolo di mamma, perché soprattutto in questo momento particolare, dove la dad è ovunque, riuscire a gestire, lavorare ed essere performanti con bambini che arrivano a tutti, insomma, in tutti i modi, con tutto il loro potenziale, con tutta la loro energia, ti dà anche la capacità di essere ancora più veloce, ancora più agile e cercare anche strategie veloci e davvero performanti. Quindi, forse il ruolo della mamma è quello che mi gratifica di più, in tutti i sensi, non c'è paragone, però mi impegna molto in questo mindset. Esatto, poi anche la famiglia è un team, no? Sono, voglio dire, obiettivi diversi, però sempre di quello si tratta e quindi bisogna agire in questo modo. Quindi tu dicevi, e poi ti saluto, così diamo spazio anche al nostro dibattito con gli altri ospiti della puntata, che sei confident, ottimista rispetto al fatto che questa mentalità possa cambiare, andare in questa direzione, intendo dire la mentalità delle aziende, delle persone che rendono e che devono rendere grande il nostro paese sempre di più? Assolutamente sì. Si è parlato in questo ultimo anno tantissimo di cambiamento, ma io vedo anche, più che il cambiamento, l'evoluzione. L'evoluzione parte proprio dalle persone, dalle persone che alla base di tutto devono essere motivate. Quindi credere, avere forte motivazione e essere consapevoli che con una mentalità così più flessibile, così più aperta, meno chiusa, molto inclusiva, si possa davvero fare dei passi avanti, no? Quindi investire sulle persone e nella loro mentalità. Questo è il passaggio chiave che secondo me questo periodo può averci dato degli spunti fondamentali per vedere un futuro davvero più veloce, ma profondo e migliore. Grazie Maurizia Cacciatori per essere stata con noi. Io ti saluto, ma so che rimani collegata a sentire il nostro dibattito, perché adesso naturalmente apriremo tante parentesi interessanti. Intanto ti ringrazio per il tuo contributo. È stato un piacere grandissimo. Grazie, noi appunto diamo il via alla nostra tavola rotonda. Ed è veramente il caso di dirlo, insomma attraverso Maurizia Cacciatori abbiamo avuto degli spunti decisamente interessanti, ma adesso il nostro obiettivo è tradurli in pratica, cioè questo mindset agile da dove parte e soprattutto è qualcosa che si può insegnare barra imparare. Allora, li vedete già i miei ospiti. Saluto in studio con me Roberto Sommacalla, Experience Design Perspective Practitioner Flowi S.P.A. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. E saluto in collegamento Dimitri Favre, Executive Transformation and Agile Coach. Questa è una parola su cui mi soffermo in Spirit S.R.L. Grazie per essere qui. Grazie a te. Beh, io direi che possiamo partire proprio da Dimitri, perché io ho detto subito questa cosa, ma questa mentalità, la traduciamo anche in italiano agile, è qualcosa che si può insegnare. Tu sei un coach, cosa significa essere un agile coach? Da dove possiamo partire insomma? Essere un agile coach significa prima di tutto appunto trasmettere una mentalità, una cultura incentrata sull'agilità. Che cos'è l'agilità? Bisogna tornare un attimo indietro di 20 anni, a febbraio del 2001, quando 17 persone del mondo del software si sono riunite, hanno scritto il manifesto per lo sviluppo agile del software. Hanno catturato in questo manifesto quattro valori essenziali che poi sono tornati utili anche al di fuori del mondo del software. Detto che oggi siamo in un mondo completamente digitale, quindi parlare di software è comunque interessante. I valori principali che hanno costruito di fatto il mindset dell'agilità parlano di quattro cose essenziali che abbiamo trovato anche nelle parole di Maurizia prima. In particolare il valore delle persone e della loro collaborazione, quindi il valore del lavoro in team, particolarmente team piccoli, magari cross funzionali che hanno tutte le competenze come una squadra di pallavolo per poter fare il punto, per poter realizzare quelli che sono i loro obiettivi, insieme a quello che è l'altro aspetto fondamentale che è la soddisfazione del cliente, quindi poter mettere il cliente veramente al centro, dando priorità per esempio alla gestione del cambiamento rispetto a seguire dei piani di lungo termine che poi magari diventano difficili da eseguire e come lo dimostriamo tutto questo? Attraverso della formulazione del 2001 il software funzionante, cioè attraverso un risultato. Quindi questo è il mindset agile e quindi questo è quello che noi portiamo nelle aziende come mattoncino di base, prima ancora delle pratiche, per poter agire in un mondo che cambia molto velocemente. Allora Roberto, abbiamo compreso che si può insegnare questo mindset agile, come si recepisce? Perché poi abbiamo la fortuna di avere voi due in studio, una parte e l'altra, che chiaramente poi si unisce e deve diventare un tutt'uno perché altrimenti si perde proprio il senso di partenza, cioè quello di essere agili. Allora, attraverso la tua esperienza cosa significa essere agili? Allora, per Flowey la velocità è sempre stato un mantra, noi ci abbiamo sempre avuto in testa e il nostro CEO ce lo ripete praticamente tutti i giorni. Velocità, velocità, velocità e quindi abbiamo cercato di mettere in pratica questi, diciamo, questi concetti e di gestire di fatto un paradosso. Cioè nel mondo di oggi sono richieste due cose, precisione e velocità e quindi noi cerchiamo di essere precisione veloce o velocità precisa. Anche questo, dal mondo dello sport possiamo mutuare, come ci ha raccontato prima Maurizia, tanti insegnamenti. Se pensiamo agli sport motoristici o pensiamo agli sport di velocità, anche lo sci per esempio, pensiamo che ci sono degli sportivi che sono in grado con una grandissima concentrazione di affrontare delle curve, velocità pazzesche, cioè nonostante di essere estremamente precisi. E noi questi concetti abbiamo cercato di portare in azienda. In un momento in cui, come Dimitri ci insegna, stiamo gestendo un mondo che è VUCA, che è variabile, incerto, complesso e ambiguo. E quindi questa è la sfida che dobbiamo affrontare di fatto tutti i giorni. Sì, perché poi il cambiamento non è solo più veloce, è proprio indefinito, no? Assolutamente. E questo poi è quello che spesso spiazza e quindi bisogna essere lungimiranti, però avere una strategia, perché sai, questo è un concetto che voglio analizzare sia con te che con Dimitri, Roberto, però riparto da te. Spesso si pensa che la fretta sia sempre cattiva consigliera, il che è vero se non c'è alla base una strategia, no? Perché invece se si agisce poi velocemente con qualcosa di definito, insomma, si ottiene tutto. Però com'è possibile combinare questi due aspetti? Ecco, noi diciamo che siamo riusciti a farlo perché abbiamo fatto una serie di record, se vogliamo. Abbiamo cominciato a lavorare a luglio 2019 e siamo riusciti a uscire a mercato da zero costruendo un'azienda. Siamo usciti in dieci mesi. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione da parte di Banca d'Italia a operare come email, quindi istituto di moneta elettronica, in soli 88 giorni, quando diciamo il tempo minimo è 90 in Italia. E quindi siamo riusciti a guadagnare i nostri primi 100.000 clienti in quattro mesi e mezzo e siamo arrivati a chiudere l'anno, quindi poco più di cinque mesi, con 700.000 clienti in portafoglio. Quindi diciamo che la velocità è abbastanza nel nostro DNA. La velocità, sì, assolutamente sì. Ecco, chiedo la stessa cosa anche a te Dimitri, cioè come si combinano questi due aspetti e quindi di conseguenza come cambia un'organizzazione che riesce a mettere in atto questa combinazione di elementi? Si combinano attraverso la qualità. Intanto, prima citavi la strategia. Non è un'azienda agile, non è un'azienda che cambia idea continuamente, semplicemente seguendo il vento, ma è un'azienda che ha degli obiettivi precisi e semplicemente adatta al modo di raggiungere gli obiettivi. Quindi in realtà in funzione di quello che succede, del feedback che riceve dal mercato o da quello che sta facendo, adatta continuamente il suo modo di raggiungere gli obiettivi. Questo perché un'azienda agile in realtà cambia diventando un'azienda che sperimenta tanto. Sperimenta in modo scientifico. Citando Richard Feynman, noi dobbiamo partire dal presupposto che qualunque idea abbiamo in mente e quando sviluppiamo un prodotto o un servizio facciamo delle ipotesi. Citando Feynman, non importa chi siamo e quale sia la nostra idea, se non la dimostriamo con un esperimento probabilmente sbagliata. Ecco che un'azienda agile sperimenta continuamente le sue idee, le mette continuamente alla prova e le verifica, date alla mano, in modo scientifico per capire se sta facendo la cosa giusta e adattarsi continuamente. La seconda aspetto per cui si riesce a conciliare la velocità con la velocità come l'ha raccontato Roberto è la qualità. Nelle organizzazioni agili attraverso dei team che hanno tutte le competenze che servono per raggiungere l'obiettivo che si deve raggiungere, si lavora con qualità. La qualità è uno di quei principi che quelle 17 persone che vi citavo prima hanno scolpito sulla roccia. Le organizzazioni agili lavorano con qualità, quindi quando dimostrano qualcosa di funzionante, quando dimostrano di aver ottenuto un risultato, è un risultato che potenzialmente potremmo mettere sul mercato il giorno dopo. Questo fa parte del DNA delle organizzazioni agili. Ecco, prima Dimitri rimango ancora un istante da te, perché Roberto ho chiesto anche una specifica su questo, ha detto una cosa molto importante, dice oltre alle strategie che devono cambiare, però il futuro è sempre più indefinito, complice anche eventi esogeni che chiaramente non dipendono da noi, però con i quali dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Io immagino che una delle domande che ti porranno più frequentemente è proprio questa, cioè ma come faccio io ad anticipare dei miei movimenti, atteggiamenti e il mio modus operandi se non so che cosa succederà domani, proprio perché non dipende da noi. Tu cosa rispondi? Io rispondo che proprio perché non sappiamo le cose possiamo solo fare delle ipotesi e testarle in fretta. Uno dei principi cardini di una mentalità agile è quello di ottenere risposte rapidamente, più che risposte perfette, quindi testare continuamente quello che sono le proprie ipotesi, le proprie assunzioni rispetto a quello che è il contesto esterno. Bisogna partire appunto dalla consapevolezza, come dici tu, che non possiamo sapere tutto, che non sappiamo come evolverà il nostro mondo, il contesto in cui ci muoviamo, il mercato in cui operiamo e l'unico modo per saperlo è testarlo continuamente, sondare, provare, sperimentare in modo più breve possibile. Questo è un altro dei principi cardine di una mentalità agile, di un mindset agile, avere dei cicli di feedback molto rapidi per poter attuare quei cambiamenti che sono opportuni in un mondo in cui non conosciamo il nostro futuro. Ecco Roberto, abbiamo sentito anche con Maurizia quanto sia importante il team, questo è un altro concetto che vorrei analizzare con te perché è chiaro, per essere veloci tutto il team deve andare nella stessa direzione, alla stessa velocità, banalmente se c'è una persona che rallenta, si rallenta tutto quanto. E poi c'è anche il tema della mentalità. Abbiamo sentito Maurizia dire che si sente confidente rispetto al fatto che l'Italia possa cambiare velocemente anche degli aspetti, che insomma la fanno restare un po' indietro rispetto ad altri. Ti chiedo cosa ne pensi anche in base alla tua personale esperienza, perché io, così ci metto un po' di peperoncino, sono sempre un po' poco confident rispetto al retaggio culturale che a volte ci portiamo appresso. Ecco, tu cosa ci dici? Allora, da questo punto di vista diciamo che Flowey ha cercato di essere molto innovativa, sia da un punto di vista tecnologico, perché comunque siamo una tech company, da un punto di vista diciamo di business, perché ci siamo lanciati comunque all'interno di un agone competitivo di nicchia che è quello dei pagamenti, ma poi soprattutto da un punto di vista organizzativo, quindi internamente non ci siamo organizzati in direzioni come una qualunque banca o assicurazione, un'azienda in ramo finance, ma ci siamo organizzati in perspective. Cosa sono le perspective? Sono delle diverse angolature da cui si possono esaminare problemi e opportunità di tutti i giorni, quindi i nostri team, sono cinque, cinque perspective appunto, si occupano dello stesso obiettivo ma declinandolo da punti di vista diversi. Per esempio quello di cui mi occupo io, che è l'experience design, tratta di realizzare il prodotto digitale, quindi dal design, dalla progettazione fino alla realizzazione e alla messa in opera del prodotto. Chiaramente le persone sono al centro, sono diciamo la cosa più importante di questi team e la cosa più importante è abbattere le barriere, quindi sollecitare e favorire al massimo la collaborazione tra i team, perché altrimenti ognuno guarda soltanto il proprio obiettivo di nicchia e non ha l'obiettivo comune di tutta l'azienda e alla fine quello che succede è che si fallisce. Ecco, per tornare proprio agli insegnamenti Dimitri, è anche una mission di questa trasmissione, se vogliamo, quello di far capire come bisogna però allo stesso modo potenziare le capacità, guardo ancora anche Roberto per vedere se sto dicendo qualcosa di corretto, potenzialità di ciascuno, quindi riconoscere anche le differenze che ci sono nel team, però mettendole poi in un unico vaso da cui attingere proprio per raggiungere gli obiettivi. Ecco, questo è un insegnamento importante Dimitri, credo che sia centrale, soprattutto in un momento come questo. Ecco, anche qui quali sono in base alla tua esperienza le difficoltà maggiori da superare e invece i punti che abbiamo già raggiunto, perché ragioniamo anche in termini propositivi? Una delle difficoltà principali quando si parla di team e di come riorganizzare un po' l'attività intorno ai team è quello di decentralizzare il controllo, quindi di dare empowerment ai team e insegnare il manager a diventare leader per dare in qualche modo la responsabilità ai team di perseguire degli obiettivi e non più di eseguire degli ordini. Questo è uno dei passaggi fondamentali. Tutto nasce dalla consapevolezza che anche questo è uno di quei temi che si tratta in qualche modo durante la formazione, che la risposta ad un mondo che cambia così velocemente richiede la necessità impellente di fare questo tipo di passaggi, quindi di passare da un modello di comando e controllo ad un modello di leadership distribuita in cui ognuno è leader a un certo punto, perché? Perché persegue degli obiettivi e lo fa lavorando insieme a una squadra. Ecco che questo dà veramente del potere ai team. La difficoltà spesso è nel fatto che le persone a volte trovano difficile non ricevere più degli ordini e dover prendersi la responsabilità di seguire autonomamente con i propri compagni di squadra il raggiungimento dell'obiettivo. Vabbè, questo fa parte del processo di cambiamento mentale di cui abbiamo parlato. Peraltro siete d'accordo e siamo in chiusura di questo dibattito nel dire che a proposito di formazione e conoscenza, finito questo periodo emergenziale, anzi dobbiamo già farlo, però io voglio essere buona e posticipo ancora un po', occorre mettere chiarezza, è così che abbiamo iniziato questa puntata nei significati di base di parole come smart working, lavoro agile, visto che stiamo parlando di questo, lavoro da remoto, lavoro da casa. Abbiamo mischiato un po' tutte le informazioni, siete d'accordo Roberto e Dimitri e poi vi saluto? Sì, allora sicuramente bisogna fare chiarezza perché agilità non è lavoro smart, lavoro da casa, assolutamente, spesso anche i nostri governanti fanno un po' di equivoco su questo e quindi sicuramente l'agilità è tutt'altro. Ecco, Dimitri? Non posso che essere d'accordo con quello che ha detto Roberto, oggi stiamo assistendo ad un periodo in cui si è trasferito il modello di lavoro che c'era in sede, in azienda, nel lavoro a distanza, non ha niente a che fare con l'agilità e con il vero lavoro agile. Allora, visto che parliamo di coach e anche di modo di recepire cose, questo è il primo insegnamento che ancora tra gli altri che abbiamo ascoltato in questo interessante dibattito mettiamo fisso sul tavolo e da qui ripartiamo poi per eventuali altri approfondimenti. Grazie a Dimitri Favre e grazie a Roberto Sommacal per essere stati con noi. Grazie. Grazie a me per l'ospitalità. Grazie. E adesso noi ci avviamo naturalmente alle conclusioni. Torno quindi da Manuel Minati. Manuel, puntata decisamente interessante, tanti spunti da cui partire e con i quali approfondire poi eventuali altre puntate, perché no? Invitiamo anche le persone che ci seguono a darci stimoli sempre nuovi? Assolutamente sì. Come vi dicevo, uno dei canali che sicuramente ci aiuta in modo agile a identificare anche i nuovi temi è il nostro gruppo su LinkedIn, Noab, dove siete tutti invitati a contribuire con le vostre idee. Esatto. Anche perché poi partiremo da quelle, no? Anche per i prossimi appuntamenti. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, vogliamo dire quando ci rivediamo con Noab per tutte le voci della formazione sulle fonti TV e grazie, io vi ringrazio sempre per la vostra preziosa collaborazione perché stiamo imparando anche noi, io per prima, il 29 aprile se non sbaglio. Assolutamente corretto, però come di solito non anticipiamo il tema. No, 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 quello no, se no diciamo tutto oggi. Invece, mi raccomando, io naturalmente ti ringrazio Manuel, grazie per essere stato con me in collegamento e dicevo, naturalmente restate connessi a tutti i canali attraverso i quali potete avere tutte le informazioni necessarie per approfondire le tematiche in onda e vi aspettiamo la prossima puntata, la quarta puntata al 29 aprile, quindi vi aspettiamo qui sulle fonti TV. Grazie per averci seguiti.